www.redigio.it e la storia continua Storie milanesi della zona 2 La stazione centrale, la martesana e i corpi santi La stazione centrale, figlia e madre della grande industria, la ferrovia ha condizionato lo sviluppo di Milano, concentrando lungo la direttrice della linea del Gottardo le attività industriali e lo sviluppo dell'Interland. Il primo atto del trasporto su rotaia Milano si colloca nell'agosto del 1840 con l'entrata in funzione della linea ferroviaria Milano-Monza, che eppure con percorso limitato a qualche decina di chilometri percorsi in 41 minuti, era la seconda ferrovia in Italia dopo la linea di Portici a Napoli. A Milano, in quegli anni, sorse anche una seconda stazione, verso Porta Tosa, all'altezza di Via Archimede, la stazione Ferdinandea. Chiamata così in omaggio all'imperatore Ferdinando, è destinata, nelle intenzioni, a costituire il punto di arrivo dei collegamenti con Venezia e l'Austria. La linea era, però, a traino animale e collegava Milano a Treviglio per proseguire fino a Verona. Tornando alla Milano-Monza, il treno a vapore aveva tre-quattro vetture di classe unica. L'edificio della stazione esiste ancora ed è un fabbricato colore giallo, tuttavia proprietà delle ferrovie, compreso tra le vie Melchiorre-Gioia, De Cristoforis e Monte Grappa. Solo a poche centinaia di metri da quel primo edificio verso nord, vi era già allora un nascere e moltiplicarsi di aziende che si allargavano e si moltiplicavano a vista d'occhio. E le produzioni legate al trasporto ferroviario furono le prime a svilupparsi. L'industria grondona, specializzata nella produzione di vagoni, esorse nel 1845 alla Casina di Pomme, da cui nascerà ai passaggi successivi la grande OM. L'elvetica, la futura Breda, viene fondata l'anno successivo e dalle costruzioni meccaniche in genere passa velocemente alla produzione di vagoni e locomotive. La Pirelli, inizialmente G, B, Pirelli e Casazza, nel 1872 apre lo stabilimento di Ponte Seveso e avvia la produzione di cavi sottomarini nel 1883. Nel 1890 apre lo stabilimento della Bicocca per la produzione di pneumatici per automobili. Per dare un'idea della velocità dello sviluppo bastano i numeri della manodopera impiegata, da 40 a 3100 operai in 40 anni. Il Tecnomasio, sorto prima dalla fine dell'Ottocento, dall'altro lato della Martesana in via de Castilla, per la produzione di piccoli motori elettrici. Divenuto nel 1908 Tecnomasio italiano Brown Boveri, proseguirà le lavorazioni leggere nella vecchia sede, mentre nello stabilimento di Piazzale Lodi si affermerà con la sua produzione di grandi apparecchiature elettriche. Sotto la spinta delle attività industriali, prima e di quelle terziarie successivamente, la zona della stazione centrale è diventata, da zona agricola e residenziale di buona borghesia, prima zona operaia e ora centro terziario e direzionale. Sta a ricordarcelo con i suoi tanti piani e la struttura ardita un elegante grattacielo Pirelli. Così fu possibile che già nel 1864, a 24 anni dall'inaugurazione della tratta a Milano-Monza, venisse costruita la facciata della prima stazione centrale di Milano. Questa era a forte impronta francese, del tipo a binari passanti secondo lo stile Renaissance. Francesi erano pure i capitoli impegnati nell'opera e francesi il direttore dei lavori, ingegner Bouchot. Un bel fascio di binari, imponente per l'epoca, tettoia all'avanguardia in acciaio e vetro, buffet e ristorante di ottimo livello. La stazione di Milano fu per anni la più importante d'Italia. Il traffico, sempre più intenso e l'esigenza di razionalizzare tutto il trasporto sull'Italia, imposero, agli inizi del Novecento, grandi opere di trasformazione della città. Si trattava di liberare dal traffico ferroviario vaste aree cittadine, occupate da terrapieni, e di liberare le vie della città dei passaggi a livello. Progetti su progetti, pareri diversi e contrastanti, dibattiti anche alla Camera dei Deputati, pressioni sulla Casa Reale perché si definisse un progetto complessivo. Finalmente, nel 1906, si arrivò ad approvare un progetto di un nuovo sistema ferroviario per la città di Milano. Per la posa della prima pietra della stazione arrivarono persino il giovane re Vittorio Emanuele III e la sua consorte Monte Negrina. L'area prescelta fu quella area. Era quella del Trotter di allora, una struttura utilizzata a fine ottocento per le corse dei cavalli, tiro a volo, corse in bicicletta e le prime esibizioni in football di fresca importazione dell'Inghilterra. Si pensava che la realizzazione di tutto il sistema ferroviario cittadino potesse essere completato nel corso del decennio. Ci vogliono invece 25 anni per il comprensamento dell'opera e solo nel 1912, dopo una battaglia tra 45 concorrenti, la commissione, presieduta da Camillo Boito, scelse il progetto di Ulisse Stacchini per la facciata della stazione. La costruzione degli edifici passeggeri subì un completo fermo durante la Grande Guerra, dal 1915 al 1918, mentre si era già provveduto alla costruzione del grande terrapieno per la manovra dei vagoni e l'accesso dei treni nell'area di Greco. I lavori ripresero nel 19 in un clima caratterizzato da una grande penuria di fondi. Dovete intervenire il governo per decidere, nel 1925, il completamento dell'opera che doveva essere conclusa indelogabilmente entro sei anni, cosa che avvenne con l'inaugurazione primo luglio del 1931. La struttura di tutta la stazione, con l'imponenza degli edifici, si adattava benissimo ai fasti imperiali e sul frontespizio originario spiccavano innovativi enormi fascili tori, demoliti dopo il 1945. Per molti anni restò il vincolo della sede doganale con le vie San Martini e Ferrante a Porti, divise in due da cancellate invalicabili per ricavare lo spazio necessario alle operazioni della dogana e del dazio. Ma la trasformazione della stazione centrale non si è fermata. Proprio questo anno si è avviato un grande progetto di razionalizzazione degli spazi che dovrebbe far diventare la stazione centrale di Milano, oltre che il punto di partenza e di arrivo dei treni, un enorme centro commerciale e uno spazio di servizi e di tempo libero per tutti i milanesi. www.redijow.it E la storia continua.